all'autore onorevole Roberto Gualtieri. Prego, Roberto. Grazie, signor Vicepresidente, commissario Dombrovskis. Questa discussione interviene una settimana prima alla prossima riunione del Comitato di Basilea in Cile, un passo molto importante verso il completamento dell'accordo di Basilea relativamente al lavoro sulle banche. Ci concentriamo su tre gruppi di misure. La revisione dell'approccio standardizzato per i rischi di credito e operativi per migliorare la robustezza e la sensibilità al rischio, l'introduzione di vincoli per l'uso dei modelli interni e l'introduzione possibile del capital out of flow sulla base di un approccio standardizzato che definisce un requisito patrimoniale minimo per l'esposizione e modello interno. Il Parlamento chiede al colegislatore di inserire l'esito di questo lavoro nel diritto dell'Unione europea. Tenendo conto dell'impatto delle misure di cui si sta discutendo, noi riteniamo che sia necessario intervenire nel dibattito. Abbiamo avviato uno scambio di visioni con l'SSM, la Commissione, l'Eba e il segretario generale del Comitato di Basilea. Abbiamo elaborato un'interrogazione orale, una risoluzione che è stata approvata dalla Commissione Econ con un'ampissima maggioranza e ora sarà votata in plenaria. Come afferma la risoluzione, noi crediamo nell'importanza di standard globali solidi e riaffermiamo che le banche devono essere ben capitalizzate per sostenere l'economia reale e ridurre i rischi. Inoltre, riteniamo sia molto importante semplificare e migliorare la comparabilità, la convergenza del quadro del capitale basato su rischio, ponderato su rischio, in modo di valutare tutti i criteri corretti per considerare le stesse regole sulla base degli stessi rischi. La revisione, perché sia efficace e perché non abbia delle conseguenze non deliberate e controproducenti, deve rispettare due principi. Primo, non deve aumentare molto i capitali patrimoniali generali delle banche europee, come ha stabilito il Comitato di Basilea di Vigilanza. Inoltre, non ci dovrebbe essere un impatto negativo sulle condizioni di parità a livello globale e mondiale e non dovrebbe aggravare, piuttosto che mitigare, le differenze che esistono tra i vari tipi di banche e tra le varie aree geografiche. Inoltre, non dovrebbe indebolire il modello bancario dell'Unione Europea. Nonostante le norme si basano su proposte oggetto di consultazione pubblica, come per esempio degli studi quantitativi di impatto, durante l'elaborazione della sintesi sono emersi molte preoccupazioni ed emerge anche che i vari progetti non rispettavano i due principi suddetti. Proprio per questo noi chiediamo al Comitato di Basilea di rivedere le proprie proposte e al BCE, la SSM, MW e quindi la Commissione garantire rispetto dei due principi nel completamento e nel monitoraggio delle nuove norme, dei nuovi standard. Come stabilisce e dice la risoluzione, noi riteniamo che questo sarebbe strumentale, funzionale, all'introduzione nel diritto dell'Unione Europea di queste nuove misure. Noi sappiamo che ci sono alcuni passi corretti che sono stati compiuti e noi incoraggiamo una gestione e un affrontare tutti i problemi che rimangono. La necessità di finire e affrontare la variabilità delle attività ponderate sul rischio non dovrebbe creare dei problemi, piuttosto dovrebbe costituire un incentivo per ovviare all'assenza o all'insufficienza di organizzazione, così come hanno fatto l'MW e il Labour dal 2015, in modo che queste attività ponderate sul rischio siano accompagnate sempre dalla considerazione del comportamento delle banche ponderate sul rischio. Ci sono anche delle preoccupazioni rispetto agli effetti potenziali sull'economia reale in seguito all'introduzione dell'out of floor, che è strettamente legato all'average ratio. I nuovi standard dovrebbero garantire che il livello di calibratura di queste due misure non conduca ad un doppione non voluto con un esito punitivo per l'Unione Europea in termini di requisiti di capitale e patrimoniale e potrebbe anche compromettere l'efficacia di tutto il pacchetto di riforma. Per concludere, con questa risoluzione il Parlamento riafferma il proprio impegno a lavorare su delle norme definite a livello internazionale. Però vuole che queste norme, questi standard, tengano conto delle specificità del modello bancario dell'Unione Europea e garantire un equilibrio tra crescita e stabilità. Speriamo che l'adozione di questa risoluzione, con un'ampia maggioranza, possa contribuire alla realizzazione di questo equilibrio e di questo risultato equilibrato. Parola al Vicepresidente Dombrovski. Prego. Presidente, onorevoli deputati, il Comitato di Basile attualmente sta rivedendo le norme per...